La 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 laaa! Ehi ragazzi, avete sentito quella voce letteralmente angelica? I miei studenti sono davvero fantastici! Beh, devo ammettere che io sono un'insegnante divina! Vogliamo mostrare il nostro talento al mondo intero e ho pensato che il tetto sarebbe un posto perfetto per il nostro primo spettacolo! È una bellissima idea! Solo che io sto usando il tetto per lavorare al nuovo quadro. Mi dai una settimana? Beh, va bene. Avrò il tempo di preparare uno spettacolo perfetto! Io dovrei fare una sfilata di moda sul tetto! Ho dei modelli pronti per il debutto! Oh, dici davvero? Neon Lishus è un'idea super favolosa! Se facessimo un evento a settimana sul tetto ognuno potrebbe mostrare il proprio talento alla casa delle sorprese! L'adoro già! Io ci sto! Io dico, facciamolo! Non credi che sia... troppo! C'è già molto vento qui! Per una pop star i ventilatori non sono mai abbastanza! Visto! Wow! Avete iniziato presto, vero? È bellissimo! Mi sbaglio o manca qualcosa? Lama! Ci servono dei lama! Ehi, Swag! Ho fissato questo schizzo così tanto che non riesco più a distinguere un orlo da uno scollo! Potresti... Aiutarmi? Ehi, Neon Lishus! Ma è... Bianco? Già! Tu avevi detto che l'avresti finito in pochi giorni! Già, ma è difficile concentrarsi con tutto questo! Chi vuole un po' di vento? Pensavo di avere il tetto tutto per me prima dello show, ma ho sottovalutato l'entusiasmo di Lady Diva! E qui è dove avverrà la magia! Hmm... Secondo te ci entreranno un toro meccanico e un bel pianoporte vecchio stile? Mi sa che siamo tutte piuttosto emozionate! Lo so! Andrà tutto bene! Dovrò solo aspettare che le cose si calmino un po'! Ma cosa... Fame Queen! Anche voi siete qui per lo spettacolo? Siamo qui per te, Royal Bee! Hai detto che questo posto è perfetto per lavorare al nostro nuovo album? Oh! Oh! Con questo trambustolo avevo dimenticato! Perché non vi sistemate e iniziamo subito a lavorare?